ciao a tutti sono qua a roma con un politico lo riconoscete il candidato per il partito non è paragone si assomiglia non è la meloni non è salvini non ho i meloni chi è e fabio lucentini lo riconoscete no quello che quello che fa un po il birichino birichino su youtube come sono con le sue parodie le parodie no lady lady giorgia lo ricordate no il grande grande salvini grande salvini ormai rottamato un modo di dire grande salvini no è una parodia una parodia stiamo organizzando per un nuovo partito di youtube il partito degli youtube per cambiare roma se abbiamo visto del grado vogliamo cambiare in peggio esatto la vogliamo peggiorato più risorse perché ne vedo molto pochi sono arrivato pensavo di essere in africa invece ne vedo molto poche quindi caro pd caroletta molto di più potete fare molto di più boldrini dove sei dai su fa caldo ma si sta bene sono un bel freschetto abbiamo visitato un po di posti è stato interessante potrebbero nascere tante cose nuove rimanete sintonizzati che non resterete delusi giusto ciao a tutti ciao ciao ciao